25 aprile festa della liberazione la festa della liberazione si festeggia ogni anno il 25 aprile quando si ricorda la liberazione d'italia dal governo fascista e dal occupazione nazista del paese la festa del 25 aprile durante la quale ovviamente non si lavora è conosciuta anche come anniversario della resistenza una festività dedicata anche al valore dei partigiani di ogni fronte che a partire dal 1943 contribuirono alla liberazione del paese in italia le formazioni partigiane si costituirono infatti nel corso della seconda guerra mondiale dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943 per iniziativa di antifascisti e di militari del dissolto regio esercito inizialmente composta da poche migliaia di uomini la resistenza assunse consistenza grazie alla vasta partecipazione di operai contadini e dei giovani renitenti alla leva della repubblica di salò che portarono nell'esercito partigiano circa 300.000 persone le bande partigiane diedero vita alla resistenza armata contro l'occupazione nazista e contro il collaborazionismo fascista ed è per questo che fu nel contempo una guerra di liberazione contro lo straniero e una guerra civile 25 aprile festa della liberazione storia e significato l'azione della resistenza fu coordinata dai comitati di liberazione nazionali il primo dei quali sorse a roma il 9 settembre 1943 mentre il re e badoglio fuggivano nei cln erano rappresentati i partiti sorti e ricostituitisi durante il 1943 le formazioni partigiane si distinguevano a loro volta per orientamento politico vi erano le brigate garibaldi comuniste le matteotti socialiste e giustizia e libertà del partito d'azione nel giugno 1944 si costituì anche il cln alta italia comitato di liberazione nazionale alta italia grazie all'attività di questi gruppi a cui si affiancò la partecipazione diretta della popolazione civile molte zone furono liberate dai partigiani prima dell'arrivo degli alleati tutto storia nuova ediz da 13 euro e 20 centesimi 13 euro e 90 centesimi meno 5 am.percnt vedi l'offerta 25 aprile liberazione d'italia riassunto le formazioni partigiane operavano di preferenza lontano dai centri abitati per sfruttare i vantaggi offerti dalla natura montagnosa del paese lanciando attacchi improvvisi a reparti nemici o a strutture di interesse militare le rappresaglie tedesche furono feroci lo testimoniano i 335 civili massacrati a roma nelle fossarde atine e la strage di marzabotto nei pressi di bologna dove si contarono 1830 vittime rivestirono grande importanza anche altre forme di resistenza nel marzo del 1944 un grande sciopero generale l'unico nell'europa occupata dai nazisti bloccò la produzione del triangolo industriale 25 aprile liberazione e fine della guerra in italia nella primavera del 1945 le truppe anglo-americane sfondarono la linea gotica che si sviluppava dalla spezia fino a rimini lungo la pennino dilagando nella pianura padana il 25 aprile la resistenza italiana che poteva ormai contare più di 200.000 uomini scatenò l'insurrezione nazionale contro i tedeschi mussolini tentò la fuga in svizzera unendosi a una colonna tedesca ma riconosciuto e catturato dai partigiani fu giustiziato il 28 aprile nel villaggio di dongo assieme alla compagna claretta petacci e ad altri gerarchi i loro corpi appesi per i piedi furono esposti in piazzale loreto a milano ascolta su sprecher festa della liberazione 25 aprile data il 25 aprile viene festeggiato in tutta italia quale festa della liberazione la data fu scelta dal cln perché proprio il 25 aprile da milano partì l'appello per l'insurrezione armata della città di milano sede del comando partigiano liberazione e resistenza approfondimenti ecco qualche risorsa che può esserti utile per approfondire meglio il tema o conoscere gli scrittori che hanno raccontato la resistenza italiana durante la seconda guerra mondiale resistenza e guerra civile in italia storia e caratteristiche del movimento popolare che si oppose al nazifascismo durante la seconda guerra mondiale frasi sul 25 aprile citazioni e aforismi per ricordare la resistenza e la lotta partigiana 25 aprile mappa concettuale mappa concettuale sulla liberazione il 25 aprile la festa della liberazione cos'è la liberazione perché si festeggia tutto quello che devi sapere sul 25 aprile seconda guerra mondiale approfondimento e cronologia sui fatti della guerra contesto storico della resistenza cos'era il fascismo approfondimento sul periodo che portò alla nascita dell'opposizione armata popolare in italia italo calvino biografia opere pensiero dello scrittore partigiano beppe fenoglio riassunto delle opere del celebre scrittore il partigiano johnny riassunto e analisi scheda libro dettagliata del libro di beppe fenoglio bella ciao significato testo e spiegazione del canto legato ai partigiani cantato anche nella casa di carta domande e amp risposte perché si festeggia il 25 aprile in questa data si ricorda la liberazione dell'italia dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista cosa accade il 25 aprile del 1945 si tratta di una data simbolica con cui si vuole ricordare la liberazione dell'italia alla fine della seconda guerra mondiale la liberazione iniziò dopo l'armistizio di cassibile a settembre del 1943 e si conclusero con la fine della guerra chi ha deciso di istituire questa festa è stato il governo provvisorio guidato da alcide de gasperi a stabilire per decreto che il 25 aprile di ogni anno sarebbe stata questa festa nazionale era il 22 aprile del 1946 della guerra mondiale 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 della guerra mondiale